Tra l'autunno del 67 e la primavera del 68 le università italiane e centinaia di licei e istituti furono occupati dagli studenti. La risposta delle classi dominanti fu un'ondata repressiva senza precedenti. Con l'espressione autunno caldo si vuole indicare un periodo della storia della Repubblica Italiana in cui il paese, nel settembre del 1969, fu attraversato da una ondata di proteste e lotte sindacali operaie, favorita dal clima politico del 1968. Particolarmente coinvolta fu la città di Torino, la quale diventò un luogo di scioperi quasi quotidiani dal settembre del 1969, a causa della presenza degli operai della Fiat. Ma, in generale, questi eventi si diffusero in tutte le aree industrializzate del nord e del centro Italia, da Genova, a Milano, a Terni, dalla Lombardia, al Friuli, Venezia Giulia alla Toscana. Se il 68 fu l'anno degli studenti, il 69, deve essere considerato l'anno dell'unità degli studenti con la classe operaia, ciò è testimoniato anche dal fatto che questi giovani universitari andavano a protestare davanti alle fabbriche, assieme ai lavoratori. Erano i cosiddetti sessantottini, studenti universitari appartenenti alle classi sociali più deboli che da una parte avevano finalmente la possibilità di ricevere un'istruzione migliore rispetto a quella dei propri genitori, ma che dall'altra, non provenendo da una famiglia di alto rango, si rendevano conto che l'istruzione che ricevevano aveva come scopo quello di assorbirli nel processo produttivo. Si trattava, insomma, di studenti e giovani operai, politicamente schierati e culturalmente impegnati in attività di diffusione e promozione del marxismo. Tutto ebbe inizio con la scadenza triennale dei contratti di lavoro, in particolare quello dei metalmeccanici, i quali trovarono degli alleati negli studenti. Le richieste del movimento operaio comprendevano aumenti salariali sganciati dalla produttività, uguali per tutti, partecipazione operaia alla gestione delle imprese, coinvolgimento del sindacato nella definizione della politica economica nazionale, riforme per la casa, per la sanità e per la scuola. Le rivendicazioni operaie vennero in parte accolte e nel maggio 1970 il Parlamento approvò allo Statuto dei Lavoratori, volto alla tutela dei diritti sindacali.